signore e signori buonasera benvenuti a casa mia benvenuti ancora di nuovo ben ritrovati qua nel disordine solito usuale consueto della mia libreria da me e da una autentica rarità calcistica la maglietta della squadra di calcio canadese dei Compton Eclipse che ho recuperato qualche giorno fa e che ora che finalmente fa un pochino più caldo dimettiamola così posso usare tornerò a usare la mia collezione di magliette calcistiche per fare i miei video allora cari signori cari signori cari signori oggi si ride oggi cari signori si ride si ride tanto si ride molto si ride di gusto perché allora vi ricordate quando tempo fa avevo fatto il video sul perché il giappone non attaccò la russia ecco uno dei c'è come dire uno dei una delle domande che più ossessionano certi appassionati che magari per come dire perché sono neofiti come come appassionati di storia della seconda guerra mondiale i neofiti si chiedono spesso perché il giappone non attaccò la russia in concomitanza del in concomitanza del dell'operazione barbarossa o magari non tentarono di come dire aggredire la russia dopo il 7 dicembre 1941 ma allora allora signori signori allora io vi dico semplicemente questo in quel video ero stato piuttosto chiaro avevo semplicemente consigliato alle persone di prendersi una cartina dell'ex unione sovietica di studiarsela bene e di capire che oggettivamente c'era decisamente poco da fare per l'esercito giapponese ok la siberia era pressoché invulnerabile ad un attacco giapponese per questioni geografiche per questioni proprio per per questioni logistiche per questioni di semplice spazio ok e tiravo fuori la solita teoria che santa madre russia è protetta da tre invincibili generali fango spazio e inverno ok e fin qui niente di male ma che cosa succede dopo mesi dalla pubblicazione di quel video ecco arrivare da non si sa dove tale signor silvano falchi il quale scrive metal mike freeman il giappone non ha attaccato la russia per il semplice motivo che esisteva il patto di non aggressione parlare di sconfitta dei russi è ancora da dimostrare ma i giapponesi si tennero fedeli al patto sig meta o come cavolo ti chiami prima di sparare stupidate pensaci bene la siberia è inconquistabile quindi i soldati russi sono stati protetti solo dal suo generale inverno dal mio generale inverno cioè sono proprietario dell'inverno e non lo sapevo vabbè lasciamo stare allora è in fatto di strategia militari la germania e i giapponesi di quel tempo erano superiori sia tacchicamente erano superiori sia tacchicamente che logisticamente erano superiori ai russi allora ripeto in fatto di strategia militari lì allora ripeto in fatto di strategia militari la germania e i giapponesi di quel tempo erano superiori sia tacchicamente tacchicamente è che logisticamente erano superiori ai russi quindi metal stai dicendo un sacco di stupidate stai falsando la storia e te lo posso dimostrare la germania si rese conto che aveva perso la guerra dopo la disfatta di stalingrado lascia stare la cartina i fatti sono questi leggiti le enciclopedie della seconda guerra mondiale fatto per fatto termino altrimenti non si finirebbe più stai facendo solo confusione se io faccio confusione se io faccio confusione signor falchi la mia sarà pure confusione ma non è niente in confronto alla sua cioè ripeto cioè ripeto ripeto il giappone non attaccato alla russia per il semplice motivo che esisteva il patto di non aggressione parlare di sconfitta dei russi è ancora da dimostrare ma i giapponesi si tennero fedeli al patto sig meta o come cavolo ti chiami io mi chiamo metal mike il mio vero nome è michele spadoni ok caro signor silvano falchi senza profilo senza foto senza immagine ok e questa è la mia brutta faccia si vede signor falchi va bene scusate allora la siberia è inconquistabile quindi i soldati rossi i soldati russi sono stati protetti solo dal suo generale inverno cioè scusate io non sapevo di essere proprietario dell'inverno russo ripeto in fatto di strategia militari la germania e i giapponesi di quel tempo erano superiori sia tacchicamente che logisticamente erano superiori ai russi quindi metal stai dicendo un sacco di stupidate stai falsando la storia e te lo posso dimostrare la germania si rese conto che aveva perso la guerra dopo la disfatta di stalingrado lascia stare la cartina i fatti sono questi leggiti le enciclopedie della seconda guerra mondiale fatto per fatto termino altrimenti no si finirebbe più stai facendo solo confusione signori signori allora mi è stato detto più volte da persone che mi conoscono insomma da da tanti utenti di questo canale di non dare importanza a certe persone ma cari signori allora cari signori quando io ho deciso di fare questo canale ho deciso di farlo con un piglio ironico cioè con un piglio seriamente ironico per far capire le cose per esporre le cose le mie teorie le mie opinioni i fatti che conosco per esporli in modo ironico ma serio almeno ci provo spero di esserci riuscito ma questo signore spiegatemi una cosa che cazzo ha capito del mio video voglio sapere cosa cazzo ha capito del mio video cioè è evidente che questo signore non ha ascoltato il mio video non ha guardato il mio video non ha minimamente capito un cazzo di quello che ho detto cioè allora parlare di sconfitta dei russi contro i giapponesi a Kalkingol è ancora da dimostrare ma se a Kalkingol l'incidente di Nomunhan il cosiddetto incidente di Nomunhan i russi hanno aperto un deretano tanto ai giapponesi le hanno veramente spaccato il culo ai giapponesi a Kalkingol Tsukov la prima delle innumerevoli vittorie di Tsukov i giapponesi a Kalkingol le hanno buscati di brutto dai russi e ne hanno prese tante cioè la Siberia è inconquistabile e che cosa ho detto io in quel video ho detto che la Siberia non si può conquistare la Siberia è troppo vasta la Siberia si sarebbe mangiata un eventuale esercito invasore cosa ho detto io? cioè quindi i soldati russi sono stati protetti solo dal suo cioè mio generale inverno devo essermi comprato l'inverno russo senza essermene accorto non so con che soldi dato che son povero come la merda ma vabbè continuiamo in fatto di strategia militari la Germania e i giapponesi di quel tempo erano superiori sia tacchicamente che logisticamente erano superiori ai russi quindi metal stai dicendo un sacco di stupidate stai falsando la storia e te lo posso dimostrare me lo dimostri signor Falchi signor Silvano Falchi me lo dimostri che io sto falsificando la storia cosa ho detto di falso in quell'accidente di video? vorrei tanto sapere cosa ho detto di falso quando ho detto che dopo l'incidente di Kalkingol dopo insomma dopo la battaglia di Kalkingol il cosiddetto incidente di No Mon Han i russi avevano dato una tale lezione ai giapponesi che non ne volevano sapere ok? inoltre posso allora mettiamola così mettiamola così evidentemente il signor Falchi non ha capito una cosa la tattica dei tedeschi era indubbiamente superiore a quella russa durante l'operazione Barbarossa ma i giapponesi durante la breve guerra non dichiarata sulla frontiera cinomongola cinomongolica diciamo che i giapponesi presero veramente tante di quelle legnate che gli passò la volta che gli passò la voglia e quindi si decisero a firmare un patto di non aggressione con Stalin eh c'era il patto di non aggressione con Stalin verissimo ma perché fu stipulato dai giapponesi quel patto di non aggressione? perché ne avevano prese tante da Zukov a Kalkingol e non vollero come dire rompere quel patto di non aggressione nemmeno dopo l'operazione Barbarossa perché sapevano bene che con una logistica debole e poco organizzata come la loro e soprattutto lontani dalla madre patria avrebbero fatto una gran brutta fine nella Siberia che se li sarebbe mangiati crudi ah nota bene una cosa è vero è vero che i è vero che i giapponesi erano già presenti in Cina e in Manciuria ma l'occupazione della Cina continentale e della Manciuria era tutto un altro paio di maniche dell'addentrarsi nelle desolate lande gelide umide e paludose della Siberia è tutta un'altra cosa è tutta un'altra cosa la Siberia l'ho detto anche io che la Siberia è inconquistabile io voglio sapere dove faccio disinformazione voglio sapere dove falsifico la storia voglio sapere se questo cazzo di signor Falchi ha guardato quell'accidente di video ma evidentemente mi pare proprio di no a parte il fatto che la tattica giapponese superiore a quella dei russi si può sentire oggettivamente perché ricordiamoci una cosa probabilmente il signor Falchi fa confusione fa molta confusione tra le tattiche dell'esercito giapponese e quelle della Marina che erano decisamente più avanzate e molto più efficaci ma evidentemente la tattica non si sa come funziona io vorrei poi sapere quindi Metal stai dicendo un sacco di stupidate io che vi devo dire praticamente questo signore ripete in questo sconclusionato post quello che ho scritto quello che ho detto in quell'accidente di video lascia stare la cartina i fatti sono questi leggiti le enciclopedie della seconda guerra mondiale fatto per fatto le enciclopedie me le sarei anche lette quindi io vorrei solo sapere una cosa io sono curioso io sarei curioso di sapere che cosa cazzo spinge gente che non è in grado di scrivere in un italiano comprensibile cose delle quali non sono non si capisce il senso ma che si capisce soltanto la stupidità di chi le scrive e oggettivamente chi sono io per non mettere alla berlina certa gente che poi tra l'altro qualcuno mi accusa oh metti in evidenza solo gli errori degli altri non è vero io non metto in evidenza gli errori solo degli altri come mi accusa qualcuno io nei miei commenti cioè sprego sempre nei miei video le persone di correggermi se ho sbagliato quando sbaglio faccio sempre o quasi i video di correzione se qualcuno mi contesta delle cose dati alla mano io sono più che disponibile a rivedere le mie opinioni ma qui c'è cosa devo rivedere c'è scusate 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 stai falsando la storia e te lo posso dimostrare dimostramelo cioè dimostrami che falso la storia dimostrami che racconto balle a proposito dell'impossibilità giapponese di invadere la Siberia cioè tu scrivi signor signor Silvano Falchi mi scrivi che la Siberia è inconquistabile e io che cazzo ho detto in quel video me lo sa dire se ascolti quel video signor Falchi se lo ascolti io voglio solo sapere dove cioè io voglio ho ripetuto ho ripetuto almeno una decina di volte il concetto che la Siberia non era conquistabile soprattutto da un esercito logisticamente molto debole come l'esercito giapponese ma qui cioè sto dicendo un sacco di stupidate sto falsando la storia e me lo possono dimostrare e io lo ripeto me lo dimostri per favore per cortesia mi dimostri che sto falsando la storia mi dimostri che io ho falsato qualche cosa mi dimostri che la mia teoria sull'impossibilità di invadere la Siberia da parte dei giapponesi è sbagliata cioè lei signor Falchi con questo suo sconclusionato sgrammaticato e disgraziato post ha fatto due cose ha dimostrato di non avere di non avere ascoltato minimamente quel video di non avere letto i commenti a quel video e soprattutto una cosa di non avere capito minimamente una ceppa e merita di quello che ho detto caro signor Silvano Falchi signori signori che vi posso dire lo so non dovrei fare questi video non dovrei prendere in giro questi personaggi non dovrei dargli importanza ma io non gli do importanza gli do quello che gli spetta una sana dose di prese per il culo perché è questo quello che si meritano simili personaggi essere presi in giro come diceva Aristotele nel perduto trattato dell'arte della commedia usa persone ridicole prendi spunto dai loro difetti dici cazzate mi accusi di falsare la storia e me lo puoi dimostrare ma non lo dimostri signori non mi fate dopo 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 mi vengono le facce da meme dopo mi dopo veramente veramente come ha detto qualcuno detto parlare di certe cose con me equivale veramente a buttare una bistecca cruda ai piragna sì sì i denti da piragna ce li ho il comunista cannibale il mangia bambini che sono ogni tanto salta fuori quindi logico naturale che uno come me approfitta delle stupidate che qualcuno posta sul canale non posso esimermi perché come dire come dire signori facciamocela analisata che domani ci possiamo svegliare tutti quanti sotto un cipresso o dentro il cipresso se abbiamo preso la curva un po' larga ma vabbè vabbè signori signori che vi posso dire il signor il signor Silvano Falchi ha veramente ha veramente fatto un post memorabile signori onoriamolo rendiamogli il doveroso omaggio fornendogli la solita usuale clamorosa dose di perculato di stronzio in soluzione pura al 101% e soprattutto un clamoroso ma state un po' zitto prima di parlare insomma controllate la bocca per piacere controllate di avere il cervello collegato non digitate cose a caso pensate a quello che dite prima di fare figure di merda ascoltate i video prima di fare figure di merda i miei video sono troppo lunghi a volte è verissimo è vero che sono troppo lunghi ma se non avete un cazzo da dire state zitti per il vostro bene perché poi dopo il sottoscritto ne approfitta perché dopo il sottoscritto vi prende in giro perché dopo il sottoscritto e tutta la cricca del metallaro si fa una sana risata alla faccia vostra alla faccia della vostra ignoranza alla faccia della vostra faciloneria continuate così cari signori accusate me e gli altri membri della banda del metallaro della mia consorteria della mia loggia massonica della mia demo plutocratico insomma della mia banda della mia cricca della mia genga della mia della mia della mia della mia setta la setta del metallaro sì quanto suona bene la setta del metallaro sì falsifichiamo la storia e ce lo possono dimostrare dimostracelo per piacere ti supplico dimostracelo ah prima di salutarvi vorrei dire una cosa appello avviso ai naviganti se volete e anzi se volete criticare i miei video come vi spiego sempre prima di criticarli ad minchiam come fa qualcuno ascoltateli cioè dio mio lo so bene che tanta gente per più di dieci minuti non riesce a tenere alta l'attenzione e certi i miei video durano dai dai 15 ai 20 ho dei video anche che arrivano a quasi 40 minuti questo è vero ma provate ad ascoltare quello che dico cercate di mantenere la concentrazione cercate di ragionare su quello che dico al posto di dire tu falsifichi la storia e lo posso dimostrare io posso dimostrare caro signor Silvano Falchi che lei non solo non ha ascoltato quello che ho detto in quel video ma di non avere neanche capito un'emerita tega di fava detta proprio schietta come quindi signori io spero che come dire capiate il perché di questo video spero che come dire il signor Silvano Falchi mi porti la dimostrazione della mia falsificazione della storia io vado a leggermi le mie enciclopedie per conoscere i fatti per fatti così e quindi cari signori che vi posso dire grazie mille per la vostra attenzione come sempre aspetto i vostri commenti come sempre fatemi sapere qualche cosa come sempre grazie a tutti voi arrivederci al mio prossimo video e soprattutto ciao ciao